Pare che dopo anni di silenzio e più nell'ombra ormai per Paola è chiara sia il momento della rivincita o della rinascita, con un ritorno sotto i riflettori di tutto rispetto. E non può che essere così dal momento che le sorelle cantanti torneranno in riviera dopo la partecipazione al Festival di Sanremo dello scorso anno. Con loro ci saranno tra l'altro anche i tiktoker Mattia Stange e Daniele Cabras. Dopo aver svelato il primo grande ospite, cioè Marco Mengoni, infatti il direttore artistico Amadeus ha annunciato a fine novembre chi saranno i conduttori del prima Festival. E Amadeus lo ha fatto intervenendo nel corso della Milano Music Week per rivelare i nomi appunto dei presentatori a cui sarà affidato lo spazio che anticiperà le cinque serate del Festival. Tra loro ci sono proprio le cantanti Paola e Chiara, tornate in gara insieme nella scorsa edizione dopo una lunga pausa. E si tratta infatti di due icone della musica pop. Amadeus ha parlato anche del suo ruolo, non farei mai il direttore artistico nella maniera più assoluta, la macchina la devo guidare io, preferisco litigare con me stesso che con un altro, ha detto, rispondendo in questo caso una domanda sulla possibilità che dopo il 74esimo Festival possa tornare a Sanremo in un nuovo ruolo, cioè proprio quello solo di direttore artistico. Dopo il terzo anno volevo lasciare ma l'amministratore delegato Fuortes mi ha chiesto altri due anni, ho domandato alla RAI da subito, ha ricordato ancora Amadeus di fidarsi di me e di avere completa autonomia. Sanremo non si può fare in condivisione, se facessi una riunione per dire che voglio Paola e Chiara, beh loro appunto non sarebbero qui. E a quanto pare ho ottenuto proprio quello che chiedeva, non ho nessuna interferenza, sono felicissimo di come sto lavorando, poi ecco anche qualche polemica che comunque c'è sempre e infatti Amadeus dice Baudo mi disse che se nel tuo Festival non ci sono polemiche questo è una stupidata, insomma non è riuscito. E nel suo rapporto con lo storico conduttore ecco che Amadeus ha voluto comunque lanciare qualche frase, ha detto chiamo Baudo ad ogni Festival, è stato quello che mi ha dato i consigli più belli. Mi disse ricordati che devi decidere tutto tu, sapere anche quante transenne ci sono davanti all'Ariston perché se affidi qualcosa agli altri e va male, poi tanto sempre da te verranno. Ho riflettuto sulle sue parole e le ho applicate, è l'unico modo di portare a casa Sanremo e fare il direttore artistico. E allora, come non andare a rispolverare un qualche brano del passato di Paola e Chiara, dal loro archivio e dal nostro naturalmente, abbiamo scelto non però una canzone dell'esordio, quindi dei tempi dell'enorme successo, il 1997 per intenderci, ma un brano di poco dopo, che si intitola Fino alla fine. Pubblicato esattamente nel 2001 come quarto e ultimo estratto dal terzo album in studio, Television, è un singolo incluso nella prima edizione di questo disco. La canzone è diventata più famosa nella rivisitazione dell'anno successivo comunque, che aveva perso completamente la veste dance anni 90. Nella ristampa, fino alla fine, infatti una versione remixata del brano del 2000 e poi è stata pubblicizzata durante la primavera e l'estate del 2001. Fino alla fine è stata tradotta anche in spagnolo, in portoghese e anche in inglese. Il video musicale di accompagnamento, diretto da Riccardo Paoletti, è uscito nel 2001 e mostra le due sorelle in compagnia di un gruppo di marinai. Con lo scorrere delle immagini, il duo e la banda di ragazzi si troveranno a ballare insieme. Noi invece vi riproponiamo la canzone, magari proprio anche per cantarla e ballarla insieme. Buon ascolto! Buon ascolto!